World Dog Show 2015 Il cane nudo messicano è davvero nudo nel senso che non ha pelo ma quello che voi vedete è la pelle del cane E guardate che abbiamo incontrato qui al World Dog Show 2015 alla Fiera di Milano niente poco di meno che i cani di Frida Kahlo Ma in realtà questi cani erano già conosciuti all'epoca di Cristoforo Colombo e infatti vi sto parlando niente poco di meno dei Cholots Quintle o meglio conosciuto come cane nudo messicano e una razza canina già conosciuta al tempo degli Aztechi La sua conformazione fisica è simile a quella di un terrier e le varietà riconosciute sono tre standard tipo medio o tipo piccolo Il suo nome deriva dalla parola della lingua natual Cholots Quintli che a sua volta unisce le parole Cholots in Quintil Il significato è quindi cane del dio Cholot Sono dolci ed allegri, molto coraggiosi ma diffidenti con gli estrani anche se sono molto pazienti con i bambini ad esempio Frida Kahlo amava tantissimo questa razza e furono molti i magnifici esemplari che condivisero la sua travagliata e breve vita con lei Il preferito di Frida fra le cose si chiamava Mr. Choloti Iscriviti al nostro canale